Un saluto a tutti i telespettatori di Città Celeste TV in questo 14esimo giorno di ritiro per la Lazio ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti nella mattinata hanno svolto la prima seduta giornaliera, ancora una volta dedicata al lavoro tattico per reparti. Prima è toccato alla difesa, poi è toccato ovviamente al reparto offensivo. La difesa si è mossa come sempre con due schieramenti a quattro, in questi schieramenti c'era anche Acerbi che è stato protagonista in mattinata perché ancora una volta è stato beccato dai tifosi. Il coro principale o l'esortazione principale era quella di uscire ovviamente dalla porta, esattamente testuali parole Acerbi è atteso alla porta d'uscita. Al che all'ennesima offensiva da parte dei pochi tifosi presenti nella tribuna dietro la porta, Mister Sarri ha deciso di interrompere l'allenamento, andare verso di loro e chiedere di smetterla. Una richiesta innanzitutto accolta da un applauso da tutto il resto dei tifosi presenti, ma anche gli stessi sostenitori protagonisti hanno chiesto scusa al tecnico per poi dare di nuovo il via all'allenamento. Come detto prima quindi lavoro tattico per i difensori nel prosieguo dell'allenamento spazio a centrocampisti e attaccanti senza però gli infortunati ACPAC Pro e Keen e nemmeno lo stesso Zaccagni. Nel pomeriggio ovviamente è atteso il secondo allenamento della giornata.